Benvenuti nel mondo degli orologi Timex. Timex è un marchio di orologi americano con una storia lunga e interessante. Fondata nel 1854 a Warbury, nel Connecticut, l'azienda si concentrava inizialmente sulla produzione di orologi da tasca. Nel corso del tempo, Timex è diventata famosa per la sua tecnologia innovativa, la sua qualità e il suo design unico. Negli anni 50, Timex ha rivoluzionato il mercato degli orologi con l'introduzione del modello Timex Marlen, uno dei primi orologi automatici di produzione di massa. Negli anni 60, Timex ha lanciato la sua linea di orologi sportivi Warbury, che includeva modelli resistenti all'acqua e agli urti, ideali per gli sportivi e gli amanti dell'avventura. Negli anni 80, Timex ha introdotto la tecnologia Indiglo, che ha rivoluzionato l'illuminazione dell'orologio notturno. L'Indiglo è un sistema di retroilluminazione elettroluminescente che illumina l'intero quadrante dell'orologio, rendendo facile leggere l'ora anche al buio. Oggi, Timex offre una vasta gamma di orologi per uomo e donna, con una grande varietà di stili, design e funzionalità. La collezione di orologi Timex comprende modelli classici, orologi sportivi, orologi digitali e orologi smart. Tra i modelli più noti, spicca il Timex Weekender, un orologio dal design classico e informale, con un cinturino in tessuto intercambiabile. Il Weekender è un orologio versatile e alla moda, ideale per un look casual e rilassato. Un altro modello di successo è il Timex Ironman, un orologio sportivo con funzioni avanzate come cronometro, timer, allarmi e resistenza all'acqua fino a 100 metri. L'Ironman è ideale per gli sportivi che cercano un orologio affidabile e resistente. Ma la collezione di orologi Timex non si limita a questi due modelli. Ci sono orologi per ogni esigenza e gusto, come il Timex Expedition, un orologio da viaggio con funzioni avanzate come altimetro, barometro e bussola, o il Timex Metropolitan, un elegante orologio smart con funzioni come monitoraggio del sonno e notifiche intelligenti. Inoltre, la collezione di orologi Timex comprende anche modelli per bambini, come il Timex Time Teacher, un orologio educativo con quadrante colorato e cinturino regolabile. La qualità e l'innovazione sono da sempre le caratteristiche distintive di Timex. Tutti gli orologi Timex sono progettati e realizzati con materiali di alta qualità e con la massima cura per i dettagli. Inoltre, Timex continua a innovare, introducendo costantemente nuove tecnologie e funzionalità nei suoi orologi. Ad esempio, il Timex Iron Man Solar, l'orologio sportivo alimentato a energia solare, è un'innovazione recente di Timex che usa energia solare per alimentare l'orologio, eliminando la necessità di cambiare le batterie.